ciao a tutti amiche e amici benvenuti bentrovati per un nuovo video buona domenica buon 18 giugno che praticamente ecco luna nuova in gemelli quindi come avrete letto dal titolo oggi vogliamo ecco vedere attraverso queste tre varianti cosa succede per voi io vi incoraggio sempre a vedere questi video perché sono molto importanti per fare delle previsioni e anche per lavorare sul nostro sviluppo personale perché è come se arrivassero come dire con dei flussi e quindi è molto importante come dire con riconoscerli e cavalcare quell'onda positiva ovviamente o evitare di dove ci sono ecco delle cose che invece possono portare in qualche modo e con documento per gli altri aspetti lo sapete abbiamo anche l'oroscopo di settimana in settimana ma li andiamo a vedere nello specifico la vita sentimentale e sarà postato ecco domani l'oroscopo per tutti i segni vi ricordo anche che questa settimana il 21 giugno alle 16 e 57 solstizio d'estate quindi come dire ecco un portale parliamoci chiaro è un giorno di forza e quindi fatemi sapere nella sezione dei commenti se siete interessati in questo senso con diciamo ecco delle previsioni che riguardano proprio ecco questo portale praticamente ecco dell'estate va bene le varianti sono tre abbiamo ecco la pietra di luna abbiamo la labradorite e la pietra adularia adularia sì ok va bene sono sempre tutte e tre pietre di luna però hanno dei nomi diversi quindi scegliete la vostra variante ne dovete scegliere una ma ovviamente se vi va in base anche quello che andrete ad ascoltare potrebbe anche essere diciamo ecco importante lo capirete da soli scegliere una seconda variante per qualcuno addirittura ecco tutte e tre perché al momento in cui io sto facendo questa intro a dire la verità non ho ancora fatto l'estese quindi non so che cosa vi porterà ogni variante tenete da conto che diciamo ecco la luna nuova è un momento sempre in generale diciamo ecco di come dire ecco di semina in modo particolare per questa luna dei gemelli ci va diciamo ecco per il mezzo qualcosa che ha a che vedere con come posso dire diciamo ecco il movimento la sperimentazione il dialogo la conoscenza e soprattutto per quelle situazioni che possono essere per esempio ecco impantanate quindi vedremo su quale ambito diciamo ecco si parte una scintilla in questo senso no vedremo che cosa evidentemente emerge e da lì diciamo ecco alla prossima luna piena che sarà adesso la data delle comunque tra 14 giorni no la prossima luna piena abbiamo praticamente la piena manifestazione di tutto questo ok va bene direi che possiamo iniziare spero che avete scelto la vostra variante come sempre il video è suddiviso per capitoli quindi vi potete spostare nella variante prescelta vi ricordo che parlare femminile perché per il mio genere mi identifico con la consultante ovviamente diciamo ecco trasportate da quello che il vostro genere è ovviamente vale per tutti se si tratta di situazioni sentimentali sia che sia tetro che arcobaleno fatemi sapere nella sezione dei commenti il tutto come vi risuona buon ascolto buona luna nuova in gemelli e ci vediamo domani anche per il video del loro scopo settimanale buon ascolto eccoci qua amici che avete scelto la pietra di luna allora è sempre una labradorite questa qui però è la labradorite si chiama arcobaleno allora vediamo un po intanto ecco gli ambiti nella quale può avvenire come si suol dire ecco un movimento nella vostra vita eccola qua la vostra carta ok qua a che fare con con la prosperità con situazioni che possono essere chiamiamole di carestia no pochi soldi oppure debiti a che fare quindi con la parte diciamo e comateriale vediamo se c'è solamente questo quindi per qualcuno di voi si può trattare di questo vediamo un po quale altro ambito escono altre due carte guarda qui abbiamo vigila di luna piena e luna piena allora diciamo ecco che si vede che in questo ambito a quanto pare possono arrivare diciamo ecco delle situazioni che come dire così sbloccano fondamentalmente allora vediamo quelle che riguardano un dialogo una conoscenza ops escono queste tre carte vediamo un po di che cosa si tratta allora qui abbiamo ganci e attacchi psichici abbiamo il manipolare e abbiamo il minimo sforzo allora guarda significa in questo caso diciamo ecco rispetto al dialogo rispetto a qualcosa diciamo ecco che mi porta fuori da certe sabbie mobili a che fare con vedi qua la carta dice sono immune dal male attrago solo il bene e anche con una manipolazione cioè vedi lì dove voi avete avuto a che fare con delle persone amore famiglia quello che è amici colleghi qualsiasi vicini di casa chiunque sapete voi di che cosa si può trattare è proprio lì ma anche più settori mica se lo vente uno diciamo ecco adesso non avrete più quel gancio psichico che vi rende manipolabili o manipolati anzi sembrerebbe proprio che andate a ripulire proprio tutta questa energia parliamoci chiaro tossica con queste vibrazioni basse anche con un minimo sforzo quindi circondandovi praticamente da questo momento in poi anche attraverso la conoscenza il dialogo quindi attraverso una vostra nuova percezione rispetto a questi rapporti con queste persone no magari ecco scartandoli magari chiarendo determinate cose magari proprio capendo con chi non volete più avere a che fare vediamo un po cosa c'è qui vediamo qual è l'allusione in questo senso ecco per voi dell'universo allora allora guarda per quanto riguarda diciamo in questa soluzione perché penso che si tratti proprio di un movimento sembra che ci sia per voi come dire con la possibilità di avere degli incontri con delle persone che mettono in ordine lì dove c'è un pochetto di disordine mettiamola così dove c'è disordine viene messo un certo ordine quindi dovete proprio uscire in questo senso e anche come dire ecco abbandonarvi o accettare doni regali per qualcuno ci può essere anche la possibilità penso di qualche vincita se non arriva in questo senso diciamo ecco proprio la possibilità specifica con una persona che si manifesta in questo senso e tenete da conto che qua abbiamo vedi un rubinetto con gli uccellini quindi ci sono proprio gli uccellini sono le carte che parlano di comunicazioni che parlano proprio ecco di parlare di dialogo quindi ovvia vi arriverà diciamo in questo senso come dire un segno una sincronicità da parte delle persone che fanno parte del vostro entourage lì dove appunto ripeto c'è la secca attraverso come dire ecco questi uccellini e queste comunicazioni però ovviamente vi dovete mettere in questo senso ecco in moto mettendo letteralmente come dire vedete questi piatti queste stoviglie che sono tutte in disordine mettendole come dire letteralmente in ordine decidete voi se per misura se per colore ma anche per misura e per colore per dire in maniera tale che vi potete come dire ecco in questo senso rilassare come se voi doveste da parte vostra fare quell'ordine rispetto anche a determinate priorità rispetto ad una specifica checklist rispetto anche a quelle che possono essere le vostre spese fisse rispetto alle vostre spese diciamo e colottuarie mettiamole in questo modo e a quanto pare diciamo è proprio questo che va ad aprire un canale perché c'è la possibilità ripeto di riaprire quei flussi lì dove c'è una secca quindi sono cose nuove che arrivano ripeto come toni come regali come vincite e o anche diciamo ecco dei flussi che si riaprono quindi per qualcuno magari che so trovare a ricevere un aumento o trovare un nuovo lavoro cose che hanno a che fare se dovete vendere delle cose che hanno a che fare proprio con le entrate di denaro che vi permettono quindi in qualche modo anche di sanare risanare proprio durante anche questi 15 giorni a dire la vita quindi fino alla luna piena delle situazioni che per voi ripeto erano in secca vediamo adesso nello specifico questa situazione invece dei ganci e degli attacchi e poi ripeto erano in secca vediamo adesso beh sì allora guarda sembra che quest'ambito che ha a che fare proprio diciamo ecco con un una revisione delle persone che per voi sono positive anziché essere state diciamo negative perché avete in qualche modo si capisce che siete vampirizzati o siete stati vampirizzati vedi qua abbiamo qualcuno che dipinge no quindi questa è un'immagine che vi viene in qualche modo portata dall'esterno e vi fa essere anche diverse da come siete realmente adesso è come se si accende un faro è come se ci fosse una nuova direzione assai probabile che tutto questo possa riguardare delle persone che avete frequentato conoscete da molto tempo quindi possono essere che so amici storici persone proprio che conoscete da molto tempo o con la quale da molto tempo siete vicini di casa amici di infanzia se non addirittura diciamo e co parenti in questo senso no quindi persone proprio della vostra famiglia adesso è come se acquisite un nuovo punto di vista e non dico che vi liberate in questo senso diciamo ecco dei ricordi ma trattenete solamente come dire ecco le cose belle mettendole letteralmente come si sul dire diciamo ecco tutte in fila ma per per trattenere solo ciò che vi fa bene e non dando più la possibilità di come dire ecco sentirvi inquinati o vampirizzati è proprio qualcosa che ha a che fare letteralmente diciamo ecco con il vampirismo o con qualcuno diciamo che nei vostri confronti può essere stato un tantinello opportunista va bene vediamo un po cosa ci raccontano queste carte qui andiamo a chiedere cose che cambia rispetto a qualcosa in voi che diciamo ecco sulla quale ci avete pensato sulla quale appunto non c'è stata chiarezza diciamo ecco qual è l'esperienza concreta che andate a fare in questi 15 giorni e quindi cos'è che andate a fare quindi passando dal pensare al fare qui vediamo nello specifico ciò che può avere a che fare con la vostra vita sentimentale ok abbiamo qua per il mezzo la possibilità di catene che come dire così spezzano vedi abbiamo il 5 di coppe è molto evidente qui questo infatti qua c'è anche le sabbie mobili il 2 di spade proprio un pensiero sulla quale siete impantanati e il pensiero ha a che fare con un rimpianto una malinconia qualcosa che vi trascinate che vi trattiene rispetto a un passato quindi ha a che fare quindi con questo tipo di sensazione con una nostalgia mettiamola così tieni da conto che nel vostro pensiero no c'è proprio questo senso di un corteggiamento è un pensiero insidioso che c'è nella vostra mente rispetto ad una persona però a dire la verità è come se voi voleste magari qualcosa da parte di qualcuno che avete in mente di specifico però a dire la verità magari vedi la situazione stallo da molto tempo qui abbiamo questo cavaliere c'è questo re di spade però avete realizzato adesso anche con un certo distacco nella vostra mente insomma che o è passato molto tempo o non sono arrivati dei messaggi delle comunicazioni c'è un senso di stanchezza adesso rispetto proprio ad un chiamiamolo corteggiatore o qualcuno che vi interessa a voi o vi dovrebbe corteggiare dal vostro punto di vista vi dovrebbe portare come dire anche delle novità in questo senso affettive che evidentemente tardano ad arrivare non dico che tardano cioè o vi hanno stancato l'attesa o vi ha stancato il fatto diciamo ecco che ormai è come se la cosa fosse ripeto di stallo e c'è solamente per il mezzo una nostalgia scusate l'interruzione allora invece per quanto riguarda ecco in concreto cos'è che andate a fare rispetto proprio a questa situazione della vostra vita sentimentale eh vi date una mossa fondamentalmente vi date una mossa cambiate punto di vista con l'appeso significa che tagliate proprio il filo ok si vede proprio preciso da qui no? ecco e quindi quindi la situazione letteralmente diciamo ecco che si ribalta con una proposta un messaggio si riaprono le comunicazioni significa che o voi andate a capire che siete vampirizzati proprio da questa persona per dire o da questo pensiero su questa persona oppure che andrete nella direzione diciamo ecco di un chiarimento siete voi che non aspettate più volete un chiarimento vorreste un chiarimento e ci mettete magari se è il caso una pietra sopra oppure riaprite proprio la situazione va bene amici per voi è tutto fatemi sapere come vi risuona io ovviamente tutto questo matura da qui a praticamente la luna piena fatemi sapere come vi risuona io vi saluto vi abbraccio e vi bacio vi do appuntamento per l'oroscopo settimanale ci vediamo per un prossimo video a presto ciao benvenuti anche voi amici che avete scelto la labbra dorite metto qui il vostro cristallo vediamo un po per voi questa luna vediamo ecco qual è l'ambito nella quale si crea un movimento o una sperimentazione vediamo di che cosa si può trattare per voi questo proprio in generale la fiducia viaggi ed esperienze e la dipendenza ok vi spiego guardate significa principalmente che per quelli che tra voi no per esempio magari ecco vi siete come dire ecco negati delle cose o sulla quale non siete riusciti come dire ecco a venire fuori dalla dipendenza rispetto a qualcosa rispetto a qualcuno per esempio o che siete stressati o avete una dipendenza affettiva o una dipendenza dal gioco dallo shopping compulsivo dal cibo droghe dipendenza diciamo work e olic dal lavoro bene adesso si vede che come dire ecco si crea un movimento effettivamente proprio in questo ambito perché adesso è come se tu riacquistassi da adesso in poi diciamo ecco maggiore fiducia in te proprio per programmare ecco la fine da determinate da determinate dipendenze vediamo le allusioni dell'universo ok spero che si veda è valigie valigie ok guardate cioè veramente per chi ha scelto questa variante veramente sarà un momento di svolta a dire la verità su proprio questa una dipendenza perché è come se voi fosse stati come dire ecco in un recinto letteralmente non è una vera e propria prigione però diciamo è un campo che vi limita questa cosa proprio vi limita sembra che adesso arrivino degli aiuti ci sono proprio delle persone che vi portano o vi aiutano ad andare fuori da questa schiavitù non solo dipendenza schiavitù e quindi potete come dire collettualmente preparare le valigie in questi 15 giorni come dire anche rilassarvi per andare letteralmente nella direzione di una come dire copurificazione sapete quando uno fa il bagno o i bagni col sale no fondamentalmente si libera da determinate anche larve astrali facciamo cioè parliamo di quello che è no perché poi anche le dipendenze sono delle cose che vanno ad alimentare proprio questi questi canali che si nutrono proprio di una certa negatività no e quindi farete come dire ecco bagaglio di questa esperienza che voi avete vissuto e andrete in qualche modo ecco a stigmatizzarla non è che ve lo dimenticate è come quando uno dice io sono un fumatore però sono un fumatore non praticante quindi ben sapendo e avendo a paradigma tutto quello che ha costituito avere un certo tipo di dipendenza quindi sapete che comunque voi avete questo ancoraggio su qualcosa e che quello è proprio magari il vostro tallone di Achille però adesso vedete c'è una mongolfiere e sembra che anche in un modo leggero possiate in qualche modo ecco tirarvi fuori perché proprio un cambiamento anche probabilmente anche di mentalità quindi un movimento in questo di questo tipo che vi porta a sganciare questa ancora lì dove appunto è da molto tempo o pesantemente agganciata allora andiamo a vedere un altro ambito stavolta invece vediamo quelle situazioni che sono impantanate di dove si riapre un dialogo una comunicazione o venite a conoscenza di qualcosa vediamo un po' qua c'è il manipolare qua ci sono delle preoccupazioni materiali e dello stress e dello stress ok quindi adesso vediamo anche le allusioni dell'universo quindi verrete come dire ecco a conoscenza proprio ecco di come dire ecco rispetto a situazioni che vi hanno anche lì vedi la dipendenza la manipolazione no in qualche modo avete subito un forte condizionamento magari su qualcosa o con una persona ecco specifica o in modo particolare rispetto ripeto magari è collegata proprio a questa dipendenza che quindi ecco magari proprio quell'aspetto manipolava o gestiva la vostra vita portandovi anche a stressarvi ad avere delle preoccupazioni anche del materiale sull'ambito ecco del materiale mancanza di tempo mancanza come dire ecco di fiducia in se stessi non potersi organizzare per fare o vivere in una maniera ecco più positiva quindi qual è adesso la conoscenza capirete cioè è come se voi partorite adesso una nuova mentalità letteralmente e quindi conoscendo qual è il vostro punto debole saprete anche come dire ecco gestirlo anziché patirlo vediamo un po cosa dice l'universo ok allora guarda vedi per qualcuno potrebbe anche significare una dipendenza magari ecco da una persona se non è una persona specifica in questo caso potrebbe anche significare qualcosa comunque che per voi esercita una fortissima attrazione però diciamo alla fine non vi da niente anzi letteralmente vi sentite come dire ecco prosciugati potrebbe anche significare che vi sentite anche condizionati in qualche modo dal vostro entourage dalle persone che frequentate da chi vi sta intorno beh questa stagione direi che letteralmente diciamo ecco finita potrete anche stabilire adesso proprio con delle persone che o con la quale non ci sono o non portano una certa armonia nella vostra vita a nuovi confini eh andando nella direzione letteralmente diciamo ecco dei vostri desideri che poi il vostro desiderio è appunto non essere manipolati non avere queste preoccupazioni non stressarvi non avere queste dipendenze cioè si tratta di uscire letteralmente adesso da qualcosa per andare incontro ad una nuova esperienza a vivere la vostra vita eh in base intanto a quello che avete stigmatizzato con una fiducia diversa per iniziare come dire letteralmente una fase nuova andiamo a vedere nell'ambito della vita sentimentale qualcosa che ha a che fare con dei pensieri no? nella quale vi siete sentiti un po' sempre sullo stesso punto quali sono e adesso invece proprio ecco basta pensare basta più col pensare ma che cosa andrete a fare? cosa potrete fare? cosa potrete fare? ok abbiamo qua l'eremita vedi l'eremita proprio a che fare con un chiarimento con un discernimento ha a che fare con la prudenza e con prendersi anche come dire con una sorta ecco di pausa se si può dire così di ristoro anche di in certi casi anche allontanarsi il viaggio allontanarsi finché uno non ha chiare determinate cose finché non si è raggiunto l'obiettivo o si ha in questo senso proprio la padronanza su un qualcosa no? quindi qua mi fa pensare che proprio potrebbe essere anche una dipendenza affettiva mascherata ad altre dipendenze per la serie sono come dire ecco stressata sentimentalmente e mi butto per esempio sul cibo sullo shopping compulsivo chi si butta sul sesso sulla ludopatia chi si butta sulla cartomanzia chi si butta sul sullo stare sempre diciamo ecco che so su internet ognuno ha diciamo ecco il proprio canale di sfogo se vogliamo in questo senso però sapete che tutte queste cose dalle più gravi diciamo a quelle che possono sembrare meno gravi fondamentalmente tolgono tempo e risorse per delle cose più belle più gratificanti no? perché quelle sono alla fine solamente un cerotto allora nello specifico ecco di una vita sentimentale dove sembra che non c'è non ci sono regole non ci sono regole questo è quello che tu pensi nella tua mente non ci sono regole in questa vita sentimentale ecco perché ti dico per qualcuno di voi può significare sentirsi stressati in questo senso no? beh vedi qua c'è il pagino non ci sono regole anche rispetto a qualcosa che probabilmente o una persona che vi sembra che possa avere più direzioni più opzioni un rapporto che poi nella quale non vi sentite la persona come dire ecco esclusiva nella quale diciamo questo sole sembra non sorgere mai ma probabilmente ecco avete sempre l'impressione invece che sia sul tramonto e poi magari questa persona quando gli va comunque ecco vi cerca qui abbiamo ecco il due di bastoni come dire ecco è come se voi su una situazione specifica sentimentale vi sentite un'opzione tra le possibili opzioni ecco la mancanza di direzione questa è l'idea che vi siete fatti quali saranno adesso le azioni per uscire da queste cosabbie mobili possono avere a che fare anche con un movimento le comunicazioni ripeto comunque a che fare con le azioni qua abbiamo vedi il diavolo il diavolo è proprio la carta emblematica per quanto riguarda in questo senso le dipendenze gli attaccamenti disordinati tossici ok quindi abbiamo anche il cavaliere di coppe e il mondo ok significa che questa dipendenza con questa persona specifica che dovrebbe corteggiarvi che dovrebbe portarvi delle novità affettive positive adesso arriva come dire al traguardo arriva al pieno compimento quindi come dire ecco per qualcuno di voi può significare che andate nella direzione come dire di un distacco da questa dipendenza la volete chiudere questa cosa che può anche significare non andare a chiudere con la persona specifica ma chiudete la dipendenza cioè potrebbe anche significare che qualcuno decide sì ok se mi va ci vediamo anche io ti considero una delle tante opzioni ma senza come dire crearvi delle aspettative quindi dare l'avvio ad un nuovo inizio dare l'avvio ad una nuova fase di corteggiamento e per qualcuno di voi può significare proprio direttamente cambiare cavallo e cavaliere e questo farlo precipitare come dire letteralmente ecco nell'oblio va bene quindi queste possono essere in questo senso ecco le azioni il mondo è una carta che dice fine traguardo completo full ok va bene amici fatemi sapere il tutto come vi risuona vi ricordo di guardare anche quello che è il vostro oroscopo personale che verrà postato ecco nei video di domani vi auguro ecco un buon percorso ecco per i prossimi 15 giorni perché questa è l'onda e la potete appunto ecco cavalcare io vi saluto vi abbraccio vi pace e vi do appuntamento per un prossimo video a presto ciao buona luna nuova benvenuti anche a voi amici che avete scelto la variante della adularia quindi la terza variante vediamo un po cosa c'è per voi con questa luna nuova in gemelli quindi vediamo prima di tutto in quale ambito si può creare un movimento qualcosa che può avere a che fare con una sperimentazione qualcosa qua che ha a che fare con il lamento eh allora lamento casa ok ok allora guardate l'ambito del movimento allora forse nella vostra famiglia nella vostra casa o per motivi che hanno a che fare con la casa ci sono dei dissapori dei malumori delle ragioni più o meno valide di lamento vedi è proprio qui che si crea il movimento ok in questo ambito il viaggio quindi il movimento è proprio questo qui quindi queste esperienze vi portano a venire fuori per programmare qualcosa di migliore vediamo un po' quali sono le allusioni dell'universo guardate un po' tutte carte che hanno a che fare con una coppia c'è il lupo che perde il pelo ma non il vizio e guarda un po' qua abbiamo anche come dire ecco le bancarelle un mercato ok guarda allora vedi c'è potrebbe può darsi che per qualcuno di voi possa avere a che fare con la vita sicuramente ecco di coppia o cose che sono segrete nella vostra vita con una persona specifica potrebbe essere un rapporto come dire ecco sottotraccia dove voi siete gli amanti o potreste essere voi la partner ufficiale e diciamo ecco lamentarvi del fatto che magari ecco il partner passa troppo tempo fuori dalla coppia e dubitate che magari ecco abbia altri interessi rispetto ad altre persone allora vedi il fatto è questo arriva qua la carta del lupo il lupo dovete sapere è un animale totem molto importante è di quegli animali monogami che stanno tutta la vita con lo stesso partner oppure anche se sono in branco oppure stanno da soli il lupo cosiddetto solitario preferisce stare da solo se non può stare nel branco se non può stare nella monogamia diciamo che di tutti gli animali forse è quello che vive la propria socialità nella maniera ecco più coerente e congruente con il proprio scopo di vita vedi qua come vedi abbiamo fondamentalmente qualcosa che si mette a nudo quindi è come se da parte vostra adesso la direzione è il mettere a nudo determinate cose rispetto proprio alla esclusività di un rapporto che a voi a vista sembra come un mercato quindi come qualcosa che prevede troppe possibilità troppe opportunità troppi stimoli troppe troppe opzioni appetibili magari non tutte non è che uno si ferma in tutte le bancarelle ma diciamo ecco l'idea è proprio questa qui quindi è proprio questo che per voi va ad essere il nucleo del movimento per questa lunazione quindi da qui ai prossimi 15 giorni vediamo un po' lì dove c'è una situazione nella quale si apre un dialogo un chiarimento o avviene una conoscenza saldo in sospeso e il perdono ok ingombro preoccupazioni materiali allora il chiarimento vedi ha a che fare con un perdono che significa c'è un saldo in sospeso c'è una situazione appunto in sospeso della quale appunto sentite questo malumore ve ne lamentate ha a che fare proprio con la vostra vita con il vostro quotidiano quindi voi potreste essere ripeto sposati avere a che fare con una persona che ha una sua casa una sua vita allora vedi qua c'è come dire ecco da chiarire la situazione è proprio questa la la messa in luce la conoscenza viene applicata in questo ambito ok va bene saldiamo tutti i sospesi tu che hai intenzione di fare si tratta proprio di questo per voi in questi 15 giorni dice perché io devo fare pulizia perché io devo togliere l'ingombro e non le voglio avere queste preoccupazioni materiali non ha a che fare solamente con il denaro ma ha a che fare proprio con materialmente diciamo ecco qualcuno che diciamo ecco di troppo no? vediamo quali sono le allusioni in questo senso dell'universo ok abbiamo una sfera di cristallo come questa qui tipo la luna è già è già è già ok molto chiare queste più che allusioni più chiarezza a dire la verità vedi qua ripeto c'è una relazione per il mezzo ok qua abbiamo qualcuno che prima canta le serenate e poi si fa i fatti suoi quindi c'è come la sensazione di sentirsi svuotati o di essere o di sentirsi io che posizione occupo in tutta sta faccenda cioè fare questo tipo di di chiarezza togliere le oscurità le ambiguità ci arrivate fino da qui alla prossima luna piena si ricompone proprio letteralmente questo puzzle con tutti i pezzi mancanti capirete vedrete esattamente i confini i contorni e qua vedete ci sono ecco delle persone che stanno ridipingendo 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 un cielo dalla notte al giorno proprio questa chiarezza vi permetterà letteralmente di riprendere il vostro potere la vostra autostima di sentirvi comunque ecco in tutti i casi metti che questa chiarezza non va nella direzione che tu auspichi comunque ecco ti porta in ogni caso una sensazione di benessere e di non di autosvalutazione o di scarto perché sei tu caso mai che vai a scartare ok per il tuo bene per il tuo stare bene ti porta a coltivarti in questo senso e a prenderti cura di te lì dove questa persona diciamo ecco converge nel rapporto con te ovviamente anche in quel caso ti sentirai pienamente scelta prescelta e appagata allora vediamo un po' quelli che sono i pensieri no i pensieri nella quale si è in stallo quindi basta pensare qua vediamo specifico la vita sentimentale basta con quel pensiero si esce da un pensiero come dire ecco che è rimasto solo pensiero per andare nella direzione diciamo ecco di un di una concretezza di un confronto con il fare quindi cosa fate? ok abbiamo il sedibastoni il sedibastoni è una carta che parla di una vittoria parla di cambiare progetto ma vincente infatti vi dicevo qui a prescindere da quello che sarà come dire ecco il dialogo e la conoscenza di cui che apprenderete in ogni caso sarà una vittoria per voi qual è il vostro pensiero? allora qua abbiamo ecco il re di spade qua abbiamo come dire un atteggiamento quasi di chiusura si vede dalla proscenica no? quindi la freddezza il distacco è come colui che ha già sofferto e adesso davanti alle difficoltà come si suol dire diciamo ecco non è che si scompone più di tanto se c'è da agire con fermezza lo fa abbiamo addirittura l'imperatore no? quindi è come per dire da parte vostra io voglio fare le cose come dire ecco senza più l'ambiguità voglio sapere chi è dentro e chi è fuori il due di bastoni quindi se c'è la possibilità come dire ecco di convergere verso lo stesso interesse di collaborare ok? quindi ma considerandoci veramente una coppia un team oppure ognuno prende la sua strada per quelli che sono i propri interessi e tu questo pensiero a dire la verità ce l'hai chiaro ce l'hai molto chiaro è in comando della tua mente perché abbiamo come dire ecco l'imperatore quindi c'è la fermezza in questo senso no? di chi non cambia idea su questa cosa di chi diciamo ecco è dominato letteralmente diciamo ecco da questa convinzione ora questa questa convinzione passa o può passare come dire ecco porta l'energia di poter passare all'azione qual è l'azione per te in questi 15 giorni intanto qua c'è l'asso di coppe che ha a che fare con la casa gli affetti ehm la primavera dei sentimenti quindi l'inizio di qualcosa ecco di nuovo ma contemporaneamente abbiamo anche l'otto di coppe che è una carta che parla di ehm praticamente programmazione no? può avere a che fare anche con un abbandono ok? quindi vedi le azioni possono essere appunto di due tipi o abbandonare una situazione mettendo da parte i propri sentimenti oppure ricominciare ma cominciando con dei presupposti totalmente diversi ok? o può significare abbandonare diciamo ecco gli aspetti emotivi eh che non ti soddisfano più per un sano amore per te stessi in ogni caso per avere un futuro sicuramente ecco migliore radioso abbiamo il tre di bastone che è una carta che parla di di futuro che parla ecco di eh agganciarsi a prospettive nuove nuove cosa arriva cosa ho davanti non è stato scritto sulla pietra non devo sopportare per forza tutto quindi fondamentalmente qua eh quali sono ecco le azioni che tu in ogni caso scegli te stessa se c'è da mettere da parte delle cose nella sfera emotiva come dire metti tutto da parte per intraprendere un nuovo percorso il nuovo percorso è quello che tu ti vuoi portare nel futuro questo per te come dire che è passato non significa necessariamente che ti lasci con qualcuno ma significa più probabilmente che eh vedi diciamo ecco vuoi intraprendere un nuovo viaggio vuoi viverla questa esperienza in una maniera totalmente diversa non più come prima non più come una partita non più con tutte queste opzioni non più come un mercato ti vuoi sentire importante ed è giusto così ok e questa è proprio la tua vittoria va bene amici fatemi sapere il tutto come vi risuona io vi do appuntamento domani per quello che è l'oroscopo settimanale avete 14 15 giorni diciamo ecco per maturare il tutto vi saluto vi abbraccio e vi bacio aspetto di leggere nei commenti come tutto questo diciamo ecco lo sentite parte della vostra vita potete anche provare a sentire anche le altre varianti e ci vediamo per un prossimo video a presto ciao buona luna nuova in gemelli ciao 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 ciao